le fonti instant focus ancora ben trovati sulle fonti tv e allora tanti spunti in questo nostro approfondimento della giornata a partire da quello che vedete scritto in sovrimpressione gas russo eni aprirà due conti e ci chiediamo se il rublo viola le sanzioni anche se ci sono già diverse posizioni che sono arrivate da parte dell'unione europea allora giusto per fare un riepilogo da questa settimana scatta l'obbligo imposto da gazprom è stato trovato appunto questo escamotage le aziende dovranno mettere per iscritto che hanno pagato in euro in dollari questa è una richiesta della unione europea ma le autorità di mosca provvederanno alla conversione in moneta locale ricordiamo che il cremlino ha proprio imposto l'obbligo di saldare gli acquisti di gas non più in euro in dollari peraltro come era previsto dai contratti che erano stati stipulati e firmati ma in rubli perché perché questo è un modo sicuramente per sostenere la moneta locale di conseguenza l'economia che è stata colpita dalle sanzioni appunto volute dall'occidente da quando il conflitto in ucraina è cominciato peraltro il rublo è al momento una delle migliori valute del 2022 da inizio anno c'è stato questo rialzo di oltre il 12 per cento sul dollaro il surplus commerciale però è a 96 miliardi infatti sulla bilancia bisogna mettere ovviamente da una parte il potenziamento se vogliamo della valuta locale anche in seguito a queste imposizioni da parte del cremlino dall'altra parte però tutte le sanzioni che ovviamente vanno a colpire il cuore dell'economia russa quindi insomma forse i conti bisognerà farli tra un po' gazprom ha spiegato che della conversione si occuperà un'agenzia terza non sottoposta a sanzioni e da parte sua l'unione europea ha chiesto alle aziende una dichiarazione in cui mettere per iscritto chiaramente che intendono adempiere i propri obblighi ai sensi dei contratti esistenti e considerare i propri obblighi questo è proprio il virgolettato contrattuali relativi al pagamento già adempiuto pagando in euro e in dollari in linea con i contratti esistenti insomma la domanda intanto vado a salutare anche il mio ospite Alfredo Luiz Somoza presidente ICEI grazie Alfredo per essere con noi oggi buongiorno buongiorno Manuela buongiorno i tuoi telespettatori allora la domanda dopo questa lunga premessa ma insomma in cui abbiamo un po' riassunto la situazione è chi ha vinto chi ha perso in questa partita del gas secondo te partiamo da qui con tutte le riflessioni del caso beh diciamo che era logico che visto che noi siamo cioè noi Europa passiamo coloro che stiamo pagando lo sforzo di guerra russo perché diciamo che il flusso più importante di valuta in entrata della Russia è quello proveniente dalla boletta energetica che continuiamo a pagare era giusto secondo la diciamo la logica dei russi e noi abbiamo dovuto assecondarla sostenere anche la loro moneta perché con questo sistema noi sosteneremo la salute del rublo ma in realtà a me stupisce un po' il dibattito la polemica su questo tema perché quel meccanismo del doppio conto è un qualcosa che da 30 anni utilizzano le ONG italiane europee che operano in giro per il mondo cioè le ONG hanno da sempre un doppio conto che è perfettamente legale ovunque c'è un conto sul quale vengono mandati i trasferimenti in Euro e quindi tu dall'Italia mandi gli Euro da quel conto la banca converte quegli Euro in valuta locale e te lo accredita sul secondo conto quindi tu in realtà il primo conto serve un po' come deposito tu tieni i soldi lì questo in paesi dove c'è una grande variazione sulla quotazione della moneta e man mano li cambi passandole al secondo conto che è in valuta e quindi questo è pacifico ma noi non mandiamo dall'Italia le ONG non mandano dall'Italia non so la rupia dello Sri Lanka mandano Euro poi localmente avviene questo questo meccanismo che hanno fatto per la vicenda del gas esattamente quella cosa lì quindi formalmente l'Enio le compagnie che comprano il gas ruso continueranno a pagare nella valuta con cui pagavano dollaro e euro che siano tutto il resto un giochino interno che serve a che cosa? A puntellare la moneta perché ovviamente la moneta a quel punto c'è il supporto di questi flussi che sono miliardi non sono noccioline che sono miliardi che ti tengono il valore della moneta alto quindi noi diciamo che in questo momento da un lato mandiamo armi ma dall'altro lato siamo la principale fonte di ingresso dello Stato russo e addirittura siamo coloro che sosteniamo la moneta e questo ne avevamo già parlato in altri collegamenti ci fa capire per quale motivo si dice che questo è il primo conflitto ai tempi della globalizzazione perché per quanto ci sia in corso una guerra e con tutto ciò che vuol dire una guerra di sofferenze, di morte, di distruzione dall'altro lato i legami costruiti in questi anni all'interno della globalizzazione cioè quelle costruite tra la Russia e l'Europa sono fortissimi e non saltano nemmeno davanti a una guerra perché non possono saltare cioè né la Russia può smettere di vendere il gas né noi possiamo smettere di comprarlo in questo momento magari attrezzandoci tra due anni ne ripariamo ma infatti Alfredo volevo proprio arrivare lì nel senso che la domanda è molto banale ma visto che stiamo ragionando su questo intanto la prima cosa che ho pensato quando c'è stata questa polemica che tu hai detto di non capire anch'io non l'ho capita perché mi sono subito chiesta vabbè ma prima come funzionava no? Cioè questo discorso dei due conti che tu ce l'hai chiarito assolutamente in modo impeccabile e poi l'altra domanda è quella che ti stavi facendo anche tu a voce alta cioè in questo momento quale sarebbe l'alternativa? Non possiamo certo rimanere senza gas non solo noi come Italia ma insomma in generale in Europa e non abbiamo appunto delle varie alternative che possano compensare poi l'approvvigionamento che arriva dalla Russia in questo momento quindi insomma è un giochino delle parti ma è inevitabile in questo contesto? Inevitabile ma non è perché non ci sono alternative, in tempi veloci non ci sono alternative ma non soltanto sul settore energetico guarda che in questo momento sta succedendo delle cose di una che avevamo anticipato per fortuna si comincia a parlare e forse quella più grave è il tema della sicurezza alimentare cioè già in tutto il mondo comincia a sentirsi il peso dell'uscita dell'Ucraina come paese esportatore di grano e di oli, l'India ha messo in scena un protezionismo velocemente che in parte è rientrato ieri ma che è lì sul tavolo, l'India non esporterà più cereali, l'Indonesia non esporterà più olio di palma, chi produce qualcosa in questo momento si sta tutelando, il dramma sono i paesi che sono dipendenti fortemente dall'importazione di grano, soprattutto i paesi africani, l'Egitto importa l'80% del grano che consuma, quindi questo è uno ma vogliamo parlare dei microprocessori, i microprocessori, i pannelli di plastica sui quali si costruiscono, vengono tagliati con il gas neon, l'Ucraina produce il 70% del gas neon del mondo, quindi c'era già il collo di bottiglia sul tema dei microchip, dei semiprocessori microchip, adesso c'è pure questo, vogliamo parlare di fertilizzanti, la Russia è il primo esportatore mondiale di fertilizzanti, il Brasile che è il primo produttore mondiale alimenti per l'80% compra i fertilizzanti della Russia, vogliamo parlare di industria metallurgica in Europa e i semilavorati, la ghisa eccetera, arrivano dalla Russia e l'Ucraina, quindi è un problema a catena che sta investendo in interi settori, per non parlare dei settori dell'export italiano che non possono più esportare, penso al distretto del mobile dell'Abrianza, al settore calzaturiero, quindi è un problema così grande che la guerra veramente è l'elefante tra i cristalli, perché va a rompere delle cose che sembravano ormai che non potessero più succedere, quando tu ti leghi con un gasdotto a un paese, dovresti essere molto sicuro e molto sereno sul futuro nelle relazioni con quel paese, perché non è un qualcosa di quale puoi tornare indietro in pochi mesi, è un legame fortissimo ed è questa la cifra di questa guerra, da quando è finita in Sovietica abbiamo costruito dei legami fortissimi con la Russia, che è entrata a far parte del gioco della globalizzazione con quello che può produrre, che sono fondamentalmente materie prime, ma non ne metichiamo anche l'industria bellica, la Russia è un grandissimo esportatore di armi anche di alto livello, ma non siamo riusciti a costruire in mezzo al rapporto politico, quindi da un lato non possiamo staccare il cordone economico, ma dall'altro non sappiamo dove dialogare e con chi dialogare su cosa dialogare. Ecco, no no no, questo ha anche un altro punto che peraltro ho toccato anche poco fa sul, come dire, sull'atteggiamento e sul comportamento che dovremmo cercare di avere in futuro, perché se è vero che è inutile piangere sul latte versato, però dobbiamo piangere come, vista la situazione. Gli altri paesi, e vabbè, è chiaro che a lungo termine si cercherà di andare verso un'autonomia, quindi a cercare di sfruttare le nostre risorse interne che sono spesso bloccate per motivi burocratici, ma è stato proprio messo in evidenza anche come l'errore potrebbe ripetersi, incrociando le dita speriamo di no, con altri paesi da cui ci forniamo anche oggi, l'Ivia, Zervaigiana, Algeria, che però sono stati posizionati nella classifica a livello di paesi democratici agli ultimi posti, insomma, tra i 50 ultimi posti, insomma, comunque rischiamo poi in un futuro di avere altri problemi legati a eventuali situazioni geopolitiche che possano esplodere, come esplosa questa, no, Alfredo? Aggiungiamo il Congo, che è uno degli altri paesi, i quali ci sono, sono tutti paesi che stanno vivendo, già adesso, pensiamo al Mozambico, che è un po' la portaerei dell'Eni nell'Africa australe, che è un problema serissimo di jihadismo, proprio nel distretto gasifero, pensiamo al Congo, che è uno stato fallito in mano a Delevandi, pensiamo alla Libia, che è uno stato fallito in mano a Delevandi, pensiamo all'Algeria, che per fortuna è un paese fallito, ma dove c'è un problema politico grandissimo, sociale grandissimo e la situazione potrebbe scoppiare in qualsiasi momento, purtroppo, anzi, sarebbe ora che entrasse in testa i nostri decisori che l'unica autonomia che tu puoi acquisire in campo energetico è quella di tentare di produrla con i mezzi che puoi da solo, noi in Italia come sappiamo tutti, non abbiamo risorse, non abbiamo energia fossile a sufficienza, non abbiamo deciso di mollare il nucleare, noi dovremmo fare una grandissima accelerata sulle rinnovabili, ma soprattutto lavorare su un piano elettrico europeo, in che modo razionalizzare, condividere, creare una grande rete europea e a quel punto ciascuno potrà avere un contributo. L'Italia è il primo produttore europeo di energia fotovoltaica, ad esempio, e potrebbe fare molto di più, i paesi del nord sono grandi produttori di energia eolica, molti paesi come la Francia hanno un settore nucleare importantissimo e ce l'hanno e non si sognano di togliere, mettiamo in comune questo, ma se ciascuno, se i 27 ragionano ciascuno individualmente è difficile uscirne, ma noi come dicevi te giustamente, il rischio geopolitico, addirittura i paesi che hai citato e quello che ho aggiunto io, hanno un rischio geopolitico molto più alto della Russia, quello che è successo nella Russia non era nei calcoli, non era previsto, mentre invece se noi parliamo di Congo, Mozambico, sono paesi nei quali c'è già un problema serissimo. Esatto, esatto. Sì, sì, di poca stabilità che ovviamente rischia poi di… certo, figuriamoci se poi attiviamo canali commerciali anche più intensi. Allora, Alfredo, questa è sicuramente una delle notizie in primo piano, la seconda è quella che vediamo nel prossimo titolo, rischio stagflazione, il grande errore di Fed e BCE. Allora, qui naturalmente ci sono tante questioni. Intanto la notizia dell'inflazione del Regno Unito che è balzata al 9% e abbiamo insomma raggiunto i massimi da 40 anni. Questa insomma tanto per restare sui dati macro a nostra disposizione. Ieri ha parlato Jerome Powell, ma comunque insomma è chiara adesso la politica monetaria della Fed in primis con il rialzo dei tassi di interesse, la Banca Centrale Europea potrebbe alzarli a luglio. Questo però cosa potrebbe portare? Ovviamente no, ha un rischio di affossamento dell'economia, cioè che ovviamente a causa anche di quello che sta succedendo stenta un po' a ripartire, lo sappiamo adesso, detto in modo molto semplice. Stagflazione, ossia appunto l'inflazione, prezzi alti e una ripresa che non decolla. Qualcuno sostiene che appunto, visto che l'inflazione, il pericolo inflazione sia stato un po' sottovalutato dalle banche centrali, possa ripetersi dello stesso errore anche per la staflazione o altre problematiche insomma economiche del momento. Anche qui ti chiedo un tuo parere, insomma sono tanti punti e tanti aspetti, però tutti nello stesso paniere diciamo così. Diciamo il tema staflazione, di questo abbiamo parlato un po' di tempo fa, al momento per fortuna continua a essere un rischio, anche se ci stiamo avvicinando molto. Tra l'altro è una figura più teorica che storica, perché ci sono pochissimi precedenti di una situazione del genere, cioè in poche parole un'economia che ristagna e dall'altro lato un'inflazione che parte, quindi non un'inflazione dovuta al surriscaldamento dell'economia, per eccesso di consumi eccetera, ma perché fattori esterni, in questo caso molto esterni, fanno aumentare i prezzi delle materie prime e di conseguenza dei prezzi finali. Noi siamo vicini a questo scenario e per questo motivo che venendo quello che chiedevi sulla Fed e sulla Banca Centrale Europea, le banche centrali hanno poco da fare, perché gli strumenti tipici, gli strumenti delle banche che giocano sui tassi di interesse sono pensati e sono adeguati ai cicli economici normali, di recessione piuttosto che di ripartenti sul riscaldamento dell'economia, sono quelle piccole correzioni che tu fai con i tassi per tentare, delle volte in modo riuscito, delle volte non ci riesci, ma comunque per provare a intervenire su questi fenomeni. Su questo non hanno nulla da fare questi interventi, non hanno possibilità di incidere questi interventi e poi siamo di fronte a variabili geopolitiche, non a variabili economiche. Noi abbiamo due situazioni che si sono accumulate, si sono sommate un po' come gli uragani che mettono assieme tutta una serie di venticelli fino a che diventa un fenomeno gigantesco. C'è da un lato il collo di bottiglia che abbiamo ereditato e del quale non siamo usciti ancora durante la pandemia. Il secondo è la guerra dell'Ucraina di cui stavamo parlando con tutte le altre variabili che questo ha creato, ma queste due cose, questi due fenomeni non sono governabili dalle banche centrali e gli aumenti o il calo dei prezzi non passano assolutamente sull'intervento di niente. Ovviamente loro faranno quello che è nelle loro possibilità perché più di quello non possono fare, ma questa volta onestamente non credo che possano risolvere un granché, anche perché il problema in questo momento dell'economia mondiale si chiama Cina, il problema sta lì, si parla molto poco, ma i numeri che sono usciti ieri sulla Cina sono pessimi, sono pessimi per i cinesi, già anche il taglio del PIL, dell'aumento della crescita del 4,9 al 4,2, ma abbiamo a presente cosa vuol dire 4,2 per un paese come la Cina, è un disastro. Anche la disoccupazione è al 6%, ma se guardiamo la fascia 16,24 perché poi la Cina si lavora da molto giovani, siamo al 18%, sono già percentuali europee in un paese dove non c'è welfare, l'attività industriale che è quasi calata di 3 punti rispetto a un anno prima, ma soprattutto questo dato sconvolgente delle 46 città in lockdown, che vuol dire 345 milioni di persone ferme a casa, non dico alla popolazione europea, ma è più di metà della popolazione europea, i cinesi che sono fermi a casa, quindi quando torniamo al tema dei colli di bottiglia, prepariamoci i prossimi mesi, qua non c'entra nulla la guerra con l'Ucraina, è il porto di Shanghai fermo, sono gli interi distretti industriali fermi, tra due mesi arriverà molto poco dalla Cina e questo è un problema gravissimo perché questo va a pensare ulteriormente, se uno vuole comprare un'auto in questo momento in Europa gli dicono 6, 7, 8 mesi se va bene, quindi questo rallentamento che è legato a un fattore geopolitico, perché in Cina non vogliono riconoscere Xi Jinping nel 2023, scade il suo mandato e deve essere rieletto, non vuole riconoscere l'abbè sbagliato politica, quindi la politica zero Covid non la toccherà fino all'anno prossimo, questo non è un fattore governabile da parte di una banca centrale, così come non è governabile il fatto che Putin abbia deciso di invadere un altro paese, quindi tornando e chiudendo il tema delle banche centrali, in questo momento gli strumenti sono gli adeguati perché costituzionalmente di fronte a quelli che sono i problemi in questo momento della scena internazionale, dell'economia internazionale, una banca centrale non ha e non può avere strumenti di intervento. Ecco allora, visto che giustamente hai riportato in superficie il tema della Cina di cui avevamo già parlato, ma insomma perché noi adesso stiamo ovviamente parlando della crisi russa, ma la Cina, insomma ti faccio una domanda molto transciante, anche proponendoti l'ultimo titolo che avevo previsto, in cui effettivamente abbiamo messo in evidenza la crisi russa e le borse nel panico, scenari di un'economia allo sbando, ora io non so se tu reputi che l'economia possa essere allo sbando, regia per favore l'altro titolo, la domanda transciante è questa, se la Cina dovesse continuare con questo trend negativo e crollare, perché poi per certi versi l'economia sta già crollando proprio anche perché non si sa come andrà a finire il tema dei lockdown e del Covid, ecco l'economia potrebbe essere davvero allo sbando? Diciamo che il crollo della Russia non sbanda nessuno se non la Russia, è qualche paese che si è fidato troppo di russi, perché l'Italia in realtà prende quello che c'è, ma la Germania l'ha fatto come scelta, ricordiamo che la Germania c'è una lobby importantissima, però Russia, addirittura Gerald Schroeder è l'ex primo ministro, il consulente di Gazprom da anni, quindi c'è chi se l'ha cercato e c'è chi pagherà, però parliamo di danni molto limitati, se dovesse veramente esserci un problema di stabilità o di crollo o di traccollo dell'economia cinese, traccolla l'economia mondo, in questo momento non esiste un'economia globale, che vuole dire un'economia dei singoli stati che non passi dai rapporti con la Cina e di ciò che la Cina determina, il processo di trasferimento non soltanto di know-how, ma di lavorazione, di processi industriali complessi, ma anche dal punto di vista finanziario che si è fatto nei confronti della Cina negli ultimi 20-30 anni, se noi togliamo in questo momento quel protagonista, io credo che andiamo oltre lo sbando, credo che veramente siamo all'anno sero e dobbiamo capire come ripartire, perché verrebbe a cadere tutto il sistema di filiere mondiale, perché tutto il sistema di filiere mondiale delle materie prime e dei prodotti manufatti passa attraverso la Cina e questo un po' l'abbiamo scoperto con la pandemia, ma passa da lì, quindi noi dobbiamo tifare seriamente, tifare sul serio, perché alla Cina le cose vadano bene, magari imparare, anche questa è un'altra lezione che dobbiamo imparare, non soltanto il tema dei gasdotti, ma il tema della ricostruzione di filiere un po' più corte e soprattutto del controllo dei settori strategici, invece di spendere tanti soldi delle volte buttate via per aria, magari pensare degli incentivi molto mirati per riprenderti una parte dell'industria strategica o del controllo delle materie prime, ma allo stato dell'arte noi siamo a mani nude davanti a questo problema, per quello ripeto, dobbiamo tifare perché ai cinesi le cose vadano bene. Sì, 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 c'è affascinante in senso purtroppo negativo la visione di una sorta di anno zero da cui dovrebbe ripartire tutto, per certe cose lo è già, nel senso che come dici tu, poi tutti appunto i rapporti commerciali, materie prime, eccetera, bisognerà, come dire, rimodulare un po' tutto, sperando che poi non precipiti anche l'altra situazione che è quella che abbiamo descritto con la Cina. Grazie Alfredo Luiz Somosa come sempre per la collaborazione, ti seguiamo sui tuoi canali, insomma, sempre attivo e a presto sulle fonti tv. Grazie a te Emanuele, buona continuazione. Grazie. Grazie.